Si è chiuso a Cagliari il tour dei Job Day 2024. La Fiera della Sardegna è stata teatro d'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. 32.000 candidature, 8.100 colloqui programmati, 350 imprese partecipanti, 1.200 annunci pubblicati per 7.000 posizioni di lavoro. Questi numeri della due giorni cagliaritana illustrati da Maika Aversano, direttrice generale dell'Aspal, che ricorda inoltre la possibilità di rivolgersi ogni giorno ai centri per l'impiego per avere informazioni e orientamento. Gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di tanti giovani delle scuole superiori, sia di Cagliari che di diversi comuni del vasto ambito territoriale, che hanno potuto avere informazioni sulle offerte della pubblica amministrazione, in particolare delle forze armate, e sui percorsi formativi, da quelli delle università di Cagliari e Sassari, alla formazione più breve mirata degli ITS, a quella delle agenzie formative che hanno avviato e stanno attivando corsi rivolti anche a coloro che non hanno nessun diploma o qualifica. Sono dieci i centri per l'impiego protagonisti della Due Giorni Cagliaritana, che hanno svolto una preziosa attività di lavoro in formazione e consulenza. Senor B, San Luri, Iglesias, Carbonia, Semini, Sangavino, Isili, Muravera, Quartu e Cagliari. Nel corso della Due Giorni si sono tenuti seminari e laboratori per la ricerca di lavoro e i convegni euresco le opportunità di lavoro all'estero. Apprezzato l'incontro con Andrea Muzi, campione mondiale di memoria, che ha affascinato i ragazzi con la sua tecnica, appresa quando ancora era uno studente liceale e che ora è diventata il suo strumento di lavoro.